Il Teatro Sanzio di Urbino ha ospitato la seconda conferenza sul turismo organizzata da Confcommercio dopo la prima tappa tenutasi a Gabicce Mare. L'associazione di categoria ha convogliato sul palco le riflessioni di comune e regione per un patto di insieme volto a rilanciare la vocazione turistica di Urbino dopo il biegno di pandemia. Il 2021 ha recuperato parte delle gravissime perdite in termini di presenza e di arrivi del 2020 ma ancora non abbiamo raggiunto i dati del 2019 quindi ancora c'è molto da fare. Chiuso il 2021, il 2022 si apre all'insegna di grandi aspettative. Questo è l'anno di Urbino, il 2024 sarà l'anno di Pesaro, città capitale italiana della cultura. Questo è l'anno di Urbino perché 7 giugno, 600 anni dalla nascita di Federico da Montefeltro e noi come Confcommercio con Conf Turismo Terre di Urbino del Montefeltro che è la nostra nuova associazione dedicata alla promozione turistica del Montefeltro abbiamo già in animo tante iniziative, il nostro programma è già compiuto. L'altro motivo per cui siamo a Urbino è la scelta felice che ha fatto il comune con l'assessore Cioppi, l'assessore turismo, di coinvolgere le unioni montane dell'entroterra per tentare per la prima volta di realizzare un'attività congiunta, una rete creare una rete tra le istituzioni del territorio per fare una promozione strategica del turismo. In questo caso noi ci proponiamo come Confcommercio e Conf Turismo Terre di Urbino del Montefeltro come DMO, cioè come soggetto attuatore delle politiche strategiche definite dalla compagine istituzionale. Ottimismo sulle strategie comuni che la regione sta portando avanti, le migliori infrastrutturali ricordate dall'assessore Baldelli, quelle promozionali sottolineate dal governatore Acquaroli. L'agenzia che avevamo annunciato l'anno scorso sta diventando realtà, ormai è una questione di qualche giorno uscirà anche il bando per cercare il direttore, che è già stata costituita e siamo proprio in dirittura d'arrivo. Credo che l'agenzia possa rappresentare uno strumento di crescita, come uno strumento di crescita è la campagna promozionale che stiamo mettendo in campo per raggiungere quei mercati che secondo noi possono portare in questo momento storico un maggiore afflusso di turisti, parliamo dei mercati del centro e nord Europa. C'è una strategia precisa che vogliamo perseguire e credo che sia anche la strada buona su cui insistere in questi anni. Anni che ereditano diversi punti interrogativi all'orizzonte. Sinceramente le incognite sono tante in questo momento, incognite date da una fase di due anni di pandemia che diciamo così ci ha lungamente provati, ma da una fase ai noi molto inedita che è questa situazione di guerra che probabilmente può mettere in discussione alcune iniziative che erano consuetudine, ad esempio il turismo proveniente dall'est Europa per noi era una consuetudine ed era anche una fetta importante e questa cosa sicuramente verrà toccata. Io voglio pensare che ci possono essere comunque i presupposti per dare una buona offerta turistica. Altre incognite sono quelle indicate dal sindaco Gambini. Adesso tutti parlano di questi fondi del PNRR, io sono veramente molto preoccupato che non riusciamo a metterli a terra, questo è uno degli argomenti che secondo me bisognerà approfondire. Abbiamo soppresso il Ministero dell'Agricoltura e istituito un altro Ministero della Transizione Ecologica. Probabilmente se lavorava prima su questo tema la transizione ecologica era automatica, invece abbiamo distrutto un settore che oggi ci è arrivato come uno schiaffo in faccia di tutti gli errori fatti in passato.